Abbiamo presentato le cose che abbiamo fatto in questi mesi, che ci impegnano un lavoro molto intenso per rilanciare il turismo nel nostro paese, l'unico settore che mostra segnali di costante crescita anche in questi mesi e anni difficili che abbiamo alle spalle. Le potenzialità sono enormi, l'Italia è il quinto paese per turismo internazionale nel mondo, ma è assolutamente il primo rispetto ai desideri di una meta. I turisti ai quali si chiede dove vorresti andare rispondono l'Italia. C'è una possibilità enorme di moltiplicare l'offerta turistica, di farla diventare la crescita del Mezzogiorno d'Italia, che è pieno di storia, di bellezze, di cose che tutto il mondo si invidia, che non siamo stati capaci di utilizzare per chiamare turismo internazionale. Quindi investire nel turismo è davvero una delle condizioni fondamentali per fare crescere l'economia del nostro paese. Ce n'è un grande bisogno, come sapete tutti.